Ciao amici di Voodoo, siamo qui a Carrara con il maestro Maurizio Renzi, da 14 anni maestro di Dynamics Kung Fu. Ci spieghi un po' cos'è questa disciplina nuova? Allora, il Dynamics Kung Fu è una nuova disciplina, è nata tra il 2004 e il 2006. Io ho praticato il Wing Chun per 6 anni, ho praticato il GFU per 6 anni, mi sono specializzato nel Cuscio Gizu e in tante altre discipline di questo tipo. Praticamente nel 2004 ho unito, sabientemente, un po' di queste arti che stavano bene insieme. Non sono abituato a fare l'intervista, quindi... Non c'è un problema. Praticamente abbiamo unito le basi del Wing Chun con i principi del GFU. A questo abbiamo applicato alcuni principi fisici e biomeccanici di altri sistemi e abbiamo creato il nostro Dynamics Kung Fu. La vostra scuola dove è? Allora, la nostra scuola nasce a Tavuglia, di Pesaro, e poi si diramifica, diciamo, nella provincia e anche un qualche centro fuori dalla provincia. Praticamente il centro principale è quello di Bavuglia, poi abbiamo un centro a Tavuglia, un centro a Cattolica, uno a Fermo e uno a Brescia. Siete qua a Carrara, possiamo vedere coi suoi ragazzi, state facendo uno stage e adesso ci farete vedere qualche tecnica della vostra disciplina. Va bene. Grazie. 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 Grazie.